Ora il Pineto, l'altra abruzzese, iscritta al campionato di Serie C, arriva la fumata bianca per la panchina. La società infatti ha ufficializzato che il nuovo allenatore è Mirko Cudini, lo vedete in queste immagini di repertorio. Marchigiano, 51 anni a settembre, seguito peraltro da diverso tempo. Nelle ultime stagioni Cudini ha guidato Fidelisandria, Campobasso e Foggia e i tifosi abruzzesi lo ricorderanno anche alla guida del notaresco. stagione 2018-2019. Il tecnico è legato al club biancazzurro fino al 30 giugno 2026. Infine il ritiro precampionato del Pineto si svolgerà in due fasi, dal 15 al 28 luglio a Montesilvano e poi dal 29 luglio al 13 di agosto in altura a Cascia in Umbria.